In un termine calcistico. Sì, è stata una bella soddisfazione. Io ho detto a tutti, grazie prima di tutto alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, a Deborah Bergamini, che è creduto nel nostro progetto. Io ho detto che noi torniamo in Comune dal 31 gennaio del 2006. È passato tanto tempo, da lì si ricostruisce un percorso importante abbiamo creduto di fare una scelta unitaria del centro-destra allargando l'esperienza della società civile ed è un progetto che ha pagato. Mi sembra di capire che quando il centro-destra è unito e si allarga e guarda le persone che lavorano, che operano sul territorio, fa risultato. Abbiamo fatto noi, l'ha fatto Venezia, l'ha fatto il nostro amico Giovanni Toti. Abbiamo portato veramente un grande risultato. A Pietrasanta il mio cuore veramente batte forte perché voglio ringraziare tutti i miei concittadini che hanno creduto veramente in questa nuova iniziativa.